Sto chiamando l'artiglieria! Ricevuto! Artiglieria! Fuoco! Capritemi mentre ritardo! Artiglieria! Aprite il fuoco sulla piazza! Ricevuto! Fuoco! Fai! 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 Ci serve l'assistenza dell'artiglieria! Ricevuto! Ordine confermato! Fuori! 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 Ci sento l'assistenza del tartiglieria! Ricevuto, fuoco! Come on! Enemy setting the charge! Sì! Sì! Sì, scusate! Grazie a tutti! Sì! 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 Follow the line! Damn! My maxi's empty! Reloading! Fine! Need cover! We're at that point! Guys! Goddamn crap! Reloading! Reloading! Zero! He wasn't so hard! I need you! Chiamandolo Artiglieria! Recevuto! Artiglieria! He's a little guitar! Come on! 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 Let's hear the music! Our target is being mined! Our target was mined! Disarm the charge! The enemy is setting explosives! Grazie a tutti Sì 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti